Come promesso, ho deciso di fare un video in cui vi spiego il significato di Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice nel Paese delle Meraviglie è una delle più grandi opere di tutti i tempi. Fu scritta da Lewis Carroll, che era lo pseudonimo del reverendo Docton, per scherzare, diciamo, con la piccola Alice Liddell, cioè una bambina che, beh, si divertiva a giocare, e infatti un sacco di gente pensa alla pedofilia, con Lewis Carroll. All'inizio doveva essere un racconto così scherzoso, poi ci fece un libro. Allora, questo libro in realtà è diverso da come molti lo immaginano, quindi inizio a spiegarvi la differenza fra tutto ciò che potete aver visto al cinema e ciò che davvero c'è in questo libro. Tanto per iniziare, il libro è diviso in una parte 1 e una parte 2. In realtà sarebbe un sequel, cioè sarebbe un Alice nel Paese delle Meraviglie, e poi c'è il sequel, Alice attraverso lo specchio. Però nelle ultime edizioni stanno mescolando fra di loro i due libri, e quindi, beh, è diventato un libro solo. Il titolo completo quindi è Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò. Bisogna dire che è esaustivo. La trama all'incirca è questa. Alice si annoia, e quindi inizia a immaginare, nella prima avventura, di inseguire un coniglio bianco, cadere nella sua tana, e incontrare tutta una serie di personaggi. E nel secondo libro, immagina di attraversare uno specchio e scoprire tutto il mondo che c'è al di là di questo specchio, che è completamente diverso rispetto a quello che Alice aspetterebbe. Nella versione Disney, né qualsiasi altra versione che avete mai visto, è davvero fedele. Il motivo è che è un libro che non si è mai adattato al cinema. Infatti era un'enorme sfida persino per Walt Disney. Nonostante ciò vi devo dire che se volete vedere un film che davvero rispetta pienamente Alice nel Paese delle Meraviglie, ovviamente questa è la mia opinione, guardatevi Alice in Wonderland, quello di Tim Burton. Tim Burton secondo me è un regista abbastanza sopravvalutato per molti punti di vista, ma effettivamente ci ha azzeccato in pieno, in questo film in particolare. Ma effettivamente in questo film ci ha azzeccato in pieno. Sapeva perfettamente che Alice nel Paese delle Meraviglie non si poteva assolutamente trasformare in un film e quindi ha pensato di inventare una storia nuova usando gli elementi di Alice nel Paese delle Meraviglie. All'interno del film comunque non appare nessun personaggio inventato, sono tutti quanti già presenti nel libro. Sì, persino il cicciarampa che moltissime persone hanno detto eh ma non c'entra nulla con lo spirito di Alice nel Paese delle Meraviglie, come non c'entra nulla che c'è. Il cicciarampa, in alcune versioni tradotto in modo diverso come jabbervocco o tartaglione come in questa edizione, è il gigantesco drago che Alice dovrà affrontare. Le viene detto fin da subito infatti che lei, da grande, dovrà affrontare il cicciarampa. Deve stare attenta all'uccello cicciaccia, deve stare attenta al grafobrancio, ma è il cicciarampa la vera minaccia. Il cicciarampa rappresenta l'età adulta, cioè il mostro è l'affrontare la propria crescita, la pubertà e tutto quello che ne consegue. È il grande mostro che Alice sa di dover affrontare, una minaccia terribile che incombe su di lei e che la trasformerà da una bambina a un'adulta. Ed è per quello che appunto nel film lo scopo finale è quello di uccidere il cicciarampa. Viene perfettamente descritto come dovrà ucciderlo, usando la spada bigralace e tagliandogli la testa. Tagliandogli la testa perché ci sono tutta una serie di simboli e comunque tagliare la testa al cicciarampa è abbastanza comico se pensiamo alla regina di cuori. Poi, altra differenza è che la regina di cuori e la regina rossa sono due personaggi diversi, completamente diversi. Solo che nei film vengono sempre, sempre, sempre mescolati fra di loro perché effettivamente rappresentano la stessa cosa, solo che in due contesti diversi. Infatti, se la regina di cuori è quella che vive nel suo palazzo di carte, c'è un palazzo finto e che va a tribunale senza saper nemmeno di che cosa vuole parlare e che passa il tempo a giocare a croquet, dall'altro lato c'è la regina rossa che è pur sempre la regina del sottomondo ma lei è cattiva sul serio. Lei esige la perfezione da parte di Alice e combatte una gigantesca partita a scacchi contro la sua sorella, la regina degli scacchi bianchi. E questi due personaggi, la regina rossa e la regina di cuori vengono spesso mescolati. Sappiate che la regina di cuori è quella che taglia la testa alla gente ma la regina rossa è quella che la taglia davvero perché generalmente la regina di cuori non viene presa sul serio perché è soltanto una rompiscatole mentre la regina rossa fa paura a tutti. Tutte e due sono modi per rappresentare un po' ciò che Alice non vuole diventare ma che sa che effettivamente potrebbe diventare e dall'altro la regina vittoria che era una regina spietata per certi versi e per altri ottima. E beh, questa regina vittoria faceva parecchie paure ad Alice. E quindi qua ne abbiamo una perfetta rappresentazione. I vari personaggi che Alice incontra non hanno un ordine logico molto sensato ma il concetto comunque resta quello che i vari personaggi possono rappresentare o il mondo intorno ad Alice o il mondo interno ad Alice. Quindi i vari personaggi che lei incontra possono rappresentare o le persone che lei conosce oppure lei stessa. la duchessa brutta per esempio rappresenta sua madre sia la duchessa brutta che la cuoca brutta tutti i due personaggi infatti sono due modi sbagliati di comportarsi in casa la cuoca brutta è pazza è completamente arrabbiata è sempre arrabbiata con tutte e con tutti perché lei deve cucinare lei cucina il pepe perché è il fatto che le cucine il pepe a farla arrabbiare però lei lo fa lo stesso e continua imperterrita ed è sempre incazzata se la prende con tutti e finisce chiunque senza preoccuparsene dall'altro lato c'è la duchessa brutta che vuole avere un bambino e quindi ce l'ha il suo bambino ma lo tratta male tant'è vero che quando crescerà diventerà un maiale questo bambino è bruttissimo continua a piangere è disperato è tristissimo e lei non se ne preoccupa gli mette un tappo in bocca che potrebbe essere il ciuccio come rappresentazione e non si preoccupa di crescerlo sul serio e di dargli davvero affetto il coniglio bianco non deve andare da nessuna parte e non sa nemmeno che ora sia però ha fretta ha fretta qualsiasi cosa debba fare ha fretta di andare deve andare è in ritardo non fa niente se è in anticipo in ritardo lui è in ritardo tant'è vero che nel corso di tutto quanto il film non lo vediamo mai una sola volta davvero in ritardo eppure lui è in ritardo e pretende immediatamente l'arrivo di Marianna senza preoccuparsi del fatto che Marianna magari sia morta no vuole Marianna immediatamente perché quello era una sorta di modo brutto di vedere la società di quei tempi che iniziava ad essere quella di oggi cioè quella sempre più frettolosa quella che voleva sempre arrivare da tutte le parti ma in realtà non aveva nessuna parte in cui andare poi abbiamo il dodo che è il reverendo Doxon che beh è lo scrittore Lewis Carroll abbiamo i fiori i fiori che giudicano gli altri che pretendono che tu sia bella e anche tu vorresti essere un fiore però non lo sei non per loro e per quanto tu possa tranquillamente somigliare a un fiore non lo sei solo dal momento in cui loro si rendono conto del fatto che tu sia diversa da loro e questo non sta bene non c'è bisogno di dirvi che razza di persone rappresentino i fiori oppure abbiamo il tricheco il carpentiere la fantastica storia raccontata da Pincopanco e Pancopinco dove abbiamo questo tricheco che imbroglia il carpentiere facendolo lavorare per lui ma non dandogli da mangiare e imbroglia lo strichette attirandolo con belle parole per poi mangiarsene tutte quante non c'è bisogno di dirvi che il motivo per cui sono un tricheco cioè un animale grasso e un carpentiere cioè un lavoratore beh è un modo per dire che sì il tricheco è il nobile e il carpentiere è il lavoratore era un modo per parlare della nobiltà che insomma se ne fregava in più si può parlare di proletariato e tutto il resto però beh beh ci sono milioni di interpretazioni perché Lewis Carroll non diede mai nessuna spiegazione su Alice nel peso delle meraviglie spiegandone davvero il significato ma diciano a tutti quanti pensate qual che volete vi lascio liberi Alice nel corso della storia in più occasioni in più modi e per più motivi cambia dimensioni con la bottiglia con i dolcetti con il fungo lei diventa più grande più piccola lei si allunga il collo si accorce si restringe il fatto che lei continua a cambiare dimensione proprio perché non sa quali sia il suo posto non sa che cosa deve essere lei è se stessa e non ha ancora imparato che per passare da certe porte deve farsi piccola mentre può farsi grande in altre situazioni per esempio alla fine nella scena finale di Alice nel peso delle meraviglie lei al tribunale inizia a diventare gigantesca perché si rende conto del fatto che lei può scegliere di diventare grande e infatti lei cresce perché sta crescendo interiormente e si sta imponendo sulla regina di cuori facendole notare non che lei è pazza ma facendole notare perché ha torto il cappellaio il cappellaio matto è la parte folle di Alice la parte che Alice non sopporta non capisce ma che la fa divertire così come lo sono anche la lepre marzolina e il ghiro sono infatti i tre modi di diciamo perdere la testa ed essere folli il cappellaio è quello che lavora un sacco perché hey è un cappellaio ma grazie al mercurio che è una vecchia cola per cappelli o una cosa del genere i cappellaio impazzivano e infatti il cappellaio è matto perché si è ammazzato di lavoro dall'altra parte c'è la lepre marzolina che è matta a causa dei suoi ormoni del fatto che beh si è in un periodo di calore e poi abbiamo il ghiro che invece è matto perché nonostante tutto quanto alla fine non fa mai nulla tre diverse interpretazioni per dire che Alice in fondo è matta esattamente come tutte le persone che incontra il brocalifo è la parte di Alice che pensa sempre di avere una risposta ma che in realtà pone un sacco di domande senza mai rispondere a nulla che cosa sei tu chi sei sono domande che Alice si deve fare ma non sa la risposta e non sa rispondere e nemmeno ci prova sinceramente in ogni caso dovrei farvi notare che alcuni personaggi come il brocalifo il bianconiglio la regina di cuori il re di cuori personaggio fantastico sono tutti quanti i personaggi del primo libro mentre altri come il cicerampa pinco panco e panco pinco hamty d'amty sono tutti quanti del secondo libro nel primo libro Alice fa tutto quanto il suo viaggio perché sta cercando di scoprire dov'è che deve andare questo bianconiglio mentre nel secondo libro Alice deve vincere una partita a scacchi contro le altre due regine diventando regina a sua volta e violando completamente tutte le regole degli scacchi tant'è vero che poi ne ho inventato gli scacchi di Alice che sono una versione degli scacchi che segue le regole descritte in questo libro già in Alice attraverso lo specchio anche i fiori parlanti sono un elemento di Alice attraverso lo specchio ma alla fine la differenza fra uno e l'altro non sono poi tanto gravi il re di Ghiscacchi scambia Alice per un vulcano perché? perché non può ammettere che lui semplicemente è piccolo di fronte a cose più grandi di lui no deve giustificare tutti quanti i suoi errori con la natura e la natura noi non possiamo nulla contro la natura contro Dio o qualsiasi altra cosa voi vogliate interpretare in questo modo e quindi non è una bambina che ci sta distruggendo il regno è un vulcano è un vulcano è un vulcano nel secondo libro abbiamo anche Amti D'Amti l'uovo che se ne stava sul muro finché non cadde e il re mandò tutti quanti i suoi orsi tutti quanti i suoi uomini per cercare di rimetterlo a posto ma non c'era modo di rimetterlo a posto questo perché ci sono danni a cui non possiamo riparare e beh un uovo rimettilo tu a posto credo che sia l'unica cosa al mondo che è nemmeno il più grande al mondo il più intelligente possa mai riparare e l'uovo è una cosa altrettanto importante perché l'uovo può dare inizio a una vita è una cosa fondamentale per la sopravvivenza di intere specie e beh rompere un uovo significa fare un grosso danno un danno irreparabile abbiamo anche il fantastico cavaliere che cavalca al contrario per non parlare della regina bianca che devo dirlo è il mio personaggio preferito di Alice nel Paese delle Meraviglie la regina bianca è folle e gran parte delle citazioni che sentite all'interno del film di Tim Burton arrivano da lei è lei che dice che lei tutte le mattine pensa a sei cose impossibili anzi crede a sei cose impossibili prima di alzarsi oppure lei ha la memoria che funziona al contrario lei ricorda tutto quello che deve succedere ma non ricorda nulla del passato questo è un modo per parlare appunto dell'umanità che non ricorda mai quello che le è capitato non impara mai dalla storia però è convinta di sapere già quello che sta per succedere come andranno le cose in più la regina bianca è pazza è completamente pazza lei urla prima di farsi male dopo che si è fatta male non ha bisogno di urlare perché perché mai dovrebbe urlare se si è se l'ha già fatto prima ok che si è fatta male ma ho già urlato prima non serve urlare di nuovo che è un po' come quando si parla del piangere insomma se sei in grado di sfogare le tue tensioni non hai poi bisogno di disperarti tanto quando stai male poi abbiamo la mercante la pecora un personaggio inquietantissimo che appare per pochissimo tempo solo per rendere tutto più inquietante poi c'è il bosco dove si dimenticano le cose e vediamo il fantastico Dino o Cervo o Cerbiatto che incontra Alice e vuole fare amicizia con lei solo che Alice non riesce a ricordare il suo nome ed è convinta che inizi con la L e il Dino non riesce a ricordare nemmeno che cosa sia quando escono dalla foresta finalmente possono riottenere i loro ricordi e la loro memoria e il Dino sebbene Alice non gli abbia mai fatto del male automaticamente diventa razzista nei confronti di Alice perché lei è un'umana lei è pericolosa fa niente se non ha fatto nulla ora che lui si ricorda che cos'è un essere umano no Alice non va più bene Alice è diventata pericolosa poi abbiamo lo stregatto il Cheshire Cat che è il gatto della ducca Sabrutta ma non lo sa nessuno anche se tutti adorano lo stregatto stregatto ovviamente è la traduzione della Disney ma sta di fatto che il Cheshire Cat è quello che fa le citazioni migliori vuoi andare da qualche parte? segui la tua strada ah però attenta qui tutte le strade sono della regina non sono tue qualsiasi strada tu percorra infatti non stai facendo una cosa che sia completamente tua ma una cosa che è nei diritti degli altri devi comunque fare la tua strada non ti preoccupare però sappi che non avrai mai una strada che è predestinata per te semplicemente devi scegliere dove andare Alice infatti continua a chiedere allo stregatto dove dovrebbe andare e lo stregatto gli dice dipende da dove vuoi arrivare e una volta che sai dove vuoi arrivare ti basta prendere la strada che ci porta e andare dritta a non fermarti mai che sembra una cosa scontata ma in realtà non lo è in realtà non lo è pensate a quanta gente sa perfettamente che cosa vuole ma non percorre la strada per arrivarci fino in fondo e poi si lamenta pure di non esserci arrivata pensate a tutte quante quelle persone che non sanno che strada prendere ma non lo sanno perché danno per scontato che ce ne sia una giusta e una sbagliata e non che semplicemente ogni loro scelta abbia delle conseguenze che possono sempre rimediare i loro errori e non c'è una strada che abbia un finale migliore rispetto agli altri tutte le strade portano soltanto dei matti tutti quanti vogliono tagliare la testa da Alice perché tutto il mondo vuole impedirti di ragionare con la tua testa infatti è questa la grande arma di distruzione di massa in Alice nel Pesio delle Meraviglie tagliare la testa perché se tu tagli la testa una persona questa persona non può più ragionare è l'unica cosa brutta che gli puoi togliere puoi togliergli la vita puoi ucciderlo ma togliere le idee è la cosa più pericolosa in assoluto poi ve Alice cade all'interno del buco del coniglio perché deve andare in profondità dentro se stessa insomma man mano che lei cade va sempre più in profondità infatti arriva in profondità facendo dei ragionamenti stupidi ma che in realtà servono ad autodeterminarsi a capire se stessi vorrei anche far notare che Alice non riesce a risolvere i suoi problemi finché piange e annega nelle sue lacrime infatti dopo essere annegata nelle sue lacrime incontrerà un sacco di personaggi pazzi come quelli che fanno la maratonda che continuano a correre fanno un sacco di fatica però corrono uno dietro l'altro e nessuno arriva mai primo però loro vogliono tutti quanti arrivare primo però stanno correndo in tondo e quindi nessuno arriva primo e tutti sono convinti di essere i primi e che tutti gli altri siano dietro che li stanno seguendo capite? bellissime parodie del mondo reale ovviamente non posso farvi un video di 40 anni su tutti i piccoli significati di Alice nel paese delle meraviglie non posso star qui a spiegarvi perché lo stregato sparisce o perché sorride ma sappiate che è un libro meraviglioso e che non finirete mai di avere infinite interpretazioni c'è un senso per ogni cosa c'è un significato per ogni cosa e i personaggi che Walt Disney ha deciso di mantenere prendendo personaggi sia dai primi prendendo personaggi sia dal primo che dal secondo libro beh hanno tutti quanti un significato un modo di essere collegati fra di loro e non potete chiamarlo semplicemente viaggio psichedelico o altro del genere anzi è stato uno sforzo enorme quello di riuscire finalmente a portare sullo schermo una versione ad alto budget di Alice nel paese delle meraviglie insomma di solito la gente ci ha infilato una trama che non stava né in cielo né in terra mentre Walt Disney ha deciso di mantenere il classico originale nonostante ciò considero comunque quella di Tim Burton la versione migliore perché beh vediamo un bel finale per Alice nel paese delle meraviglie non nominiamo Alice attraverso lo specchio che è una cosa che può essere carina per certi versi ma in realtà e c'entra poco Alice in Wonderland è davvero il modo giusto per riuscire a interpretare Alice nel paese delle meraviglie in ogni caso nei commenti chiedetemi pure i significati di cose più specifiche e darò spiegazioni se posso o se le so perché ovviamente io non so tutto e so solamente alcune interpretazioni di ogni cosa perché con le fiabe e le favole è molto più facile ma quando si parla di cose più complesse c'è da divertirsi per questo sono i miei libri preferiti quindi chiedete pure tutto quello su cui avete dubbi chiedete tutto quello che volete non disturbate affatto e magari se tra voi commentatori c'è qualcuno che adora il libro che conosce qualche significato rispondete anche voi al posto mio perché imparerò qualcosa da voi e voi insegnerete qualcosa alle persone che sono interessate al significato di questo libro grazie a tutti grazie a tutti